come fate la rapide della pasta? ma sai che me lo sono domandato anch'io come si? ah ok con x ah perchè adesso sto usando joint abbiamo l'erba aereo è un orto a vetro ah ma mi ci posso lanciare addosso vabbè ok perfetto ottimo modo per uscire da una casa allora abbiamo er vale poi er ili e poi anche io che sono il il eccolo qua er vale vale allora te mi ho portato su questo gioco simpatico e innanzitutto come lo giudichi prima visione rana wow assurdo condivido assurdo assurdo allora assurdo qua abbiamo la casa di hello neighbor che è il gioco quello di simpatico di hello neighbor del signor giuberto qua c'è la palla qua c'è la palla prendiamo la palla no non posso prendere no ma come si prende la palla come si prendono gli oggetti non si può prendere ma come si prendono gli oggetti con e con e ma io ti è ti è ti è ale non capisco come si prendono gli oggetti ah con x ok perfetto boom possiamo cominciare allora questo signor giuberto ha qualche problema mentale essendo che diciamo vuole metterci in cantina come la fine che hanno fatto questi poveri due bambini questi due poveri bambini cos'è che c'è? gli ho letto in vetro ah no ho uscito vabbè salve salve signor giuberto addio entrare nella cantina mi dobbiamo chiudere il vetro ok mi nascondo mi nascondo mi sono nascosto ok non ci troverà non serve a niente questa volta no 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 entra in casa anche te ah aiuto ok ciao signor giuberto sei scemo no 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 muo si ci diventa il 3k mi chiamo mi chiamo cazzo ok perfetto brah brah vale vai vai allora dietro dietro vale da qua da qua da qua no no qua qua ok dai entriamo entriamo ragazzi ci possiamo fare io sono entrato no 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 c'è una scatola ah grazie per la scatola ma dobbiamo trovare delle chiavi ah lo so ma dove uno deve distrarre il signor giuberto ok lo distrago io lo distrago io no c'ho già male distrago ok per raggiungerlo dobbiamo salire qua no 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 vale vale devi distrarlo però devi distrarlo devi distrarlo vale ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta signor formaggioso 07 dove dobbiamo salire adesso allora aspettami vale distriter e parla anche no 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 cos'è cos'è non ce la posso fare niente ok così e dobbiamo raggiungere l'altro tetto ok ce la possiamo fare si um ok e mo non ce la posso fare e mo cosa dobbiamo fare no aiuto cosa dobbiamo fare adesso dimmi a me dimmi a me eh spera eeeh no 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 ok si ce l'ho fatta no mi ha preso mi ha preso mi ha chiuso no 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 e che aveva preso pure me era comunque voglio ricordare che se uno prende una chiave vale solo per lui quindi dobbiamo prenderla tutti e tre eh sì io sono fallito ma la chiave non la trovo ok sono andato il tetto spacco no dove è la chiave allora la chiave le chiavi sono tutte qui si apre magari no no sei ingegno che bello sei ingegno ok la chiave questa qui dorata per aprire questa questa che serve ok prendo questa dorata perfetto ok ok apriamo questo come si apre con il tasto sinistro del mouse no sono non ho il mouse io con y ok e niente con a questo lo lasciamo ora vale puoi raggiungerci vale raggiungerci come fa devi salire ehm devi salire quegli scaffali si ecco quelli sali 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 e raggiungi quel tetto bravo il tetto di sinistra si ricordati eh ecco ora devi raggiungerci qua vedo Giuberto yeeeh ora salta qui dall'altro ecco qui e spacca la finestra se c'è ok no che facciamo ok e qui devi prenderti la qui diventare la chiave dorata no vale 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 qui qui vedi che c'è un quadro devi staccarlo e scoppolarti qua prendere la chiave dorata che c'è un quadro e le altre chiavi qui c'è una chiave dorata con e e e sbloccare questa porta con il tasto a sinistra del mouse l'ho fatto grande perfetto ora dobbiamo prendere queste chiavi è una quella è una chiave una chiave rossa si rossa cosa? va bene se c'è un buco eh sì c'è un buco non so perché ma cosa dobbiamo fare invece non si apre che dobbiamo fare ora dipende tutto da voi ma cosa vuol dire? eh non mi ricordo ah bravo perfetto ma non ha capito come perché si può rire ok ho capito con x devo farlo ok ok sono forte sono forte vieni qua vieni qua ma ne viene anche qua ma c'è un piccolissimo problema c'è un altro piccolo problema io non trovo la chiave fanno i botti io non trovo la chiave quella rossa ma che caffè ma perché i botti sono belli perché li vedo dalla finestra però non ho questo ho dei botti e c'è il vicino che ho preso simpatico questa clip qua la metterò o il magnete se la piantano di fare i botti magari ma distrailo tu distrailo tu usiamo l'idea di prima no che p***e ti devi dai c***i ne va ti ok sta attirando la nuova forte vale dici qualcosa e niente vale che non sto facendo niente ma vale non sta aiutando il mio in questo video sarebbe l'idea più giusta da fare non ci credo non ci posso credere io non ci posso credere adesso siamo qua facciamo così facciamo così così ci mettiamo qui allora devo salire questa scala così poi devo arrampicarmi ce lo posso fare così poi così spaccia la finestra ci intrufoliamo qui dentro magari blocco mi prendo questa chiave e me ne esco ok qui adesso poi sblocchiamo questa roba ok così si si apre si si apre magari ok calamita presa questo qua cosa serve? e ora devi andare a prenderci le cose ma questo grimanderlo qua cosa serve? boh scoprirai io devo prendere le mie scuole no mi prendo me ne chiamano mi si tratta di oggetti ma lei si utile che è comunque vale veramente bravo mmm 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 questo grimanderlo mi sa che serve per la scala ho aperto sta posta sta porta qua e adesso come l'hai aperta scusa con il grimandello come l'hai aperta e con e con il grimandello l'ho aperta e poi c'è questa la chiave inglese ok sono entrato pure io prendiamoci la chiave inglese scappiamo prima che arrivi bravo e lo scagliamo saliamo saliamo ok perfetto uh e qui c'è la roba segreta che ti ho detto ok prendiamo un po' perché c'è musica scusa io non mi sento non un audio no perché c'è l'audio non lo sento della musica c'è una chiave rossa aspetta e ora con questa chiave rossa in teoria possiamo sbloccare la porta e poi qua vabbè qua aspetta che possa fare così e togliere la sedia e qua posso aprire di qua possiamo spaccare ok andiamo a sbloccare la porta andiamo a sbloccare la porta sblocchiamo la porta e andiamo 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 no si deve dire ok andiamo andiamo uh ma è buio ah di qua si va si ma che cosa è una lavatrice e una torcia una torcia allora c'è questa roba qua un passaggio segreto oddio oh ma 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 che cosa c'è ma 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 che aspetta questa è un calumetella questo nemmeno questo cos'è no sta a prendere il garage vieni qua è qui che si deve andare apri il garage ok perché c'è una tv accesa è vero spagnola tra l'altro vabbè fuori a spagna ok qua c'è una porta chiusa un frigorifero tra l'altro sto gioco ha fatto davvero bene un cassetto ma ma c'è un un manichino come si chiama questi lion mi ricordo che era un nome bellissimo perché guardavo lion che giocava tantissimi anni qua eh si boh non mi ricordo come si chiamavano ma che bei tempi ma una vasca una vasca ok ah ecco perché era chiuso qua perché c'era questo ok qua si può prima spè la prendo se riesco così ok ah di qua c'è questa porta qua di qua ok l'apro pure io via di qua c'è questa porta qua di qua c'è questa porta qua Emo dove si va dove sei finito ti ho perso sono qua torna dove nella stanza principale di prima ho disattivato la roba come l'energia qua c'è una luce rossa ci sono sempre sti manichini che mi chiedono è un botto manichini e e dobbiamo attivarlo beh se non ti devi ok 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 il cielo ma il cielo ma il cielo mi sape che è il giubbato qua non lo tatu e paeta scappiamo 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 sta ?" punta sta? club sta scappa scappa scappiamo scappiamo non scappa avanti odino o no chiudi Abbiamo completato l'atto 1 Abbiamo completato l'atto 1 Grande Ili Mesei forti Bravo, perfetto Senza l'aiuto di Vale Vale si è stato inutile in questo video Inutile L'inutile Lo specchio Speriamo che questo video Vessi finito insieme a Vale e Ili Vale è stato inutile E quindi niente Ciao Vale e Ili Dite un ciao Vale vuoi dire qualcosa Ciao Vale Ciao 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 Ciao